Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, protagonisti di un servizio delle Iene. La coppia, nata nella casa del grande fratello Vip, è felice e innamorata. La sorella di Belen non ha paura a mostrare la sua felicità, anzi, durante la famosa intervista doppia delle Iene, rivela di essere stata lei a prendere l'iniziativa con Ignazio, ma non solo. L'Argentina è molto soddisfatta delle doti amatorie del suo fidanzato, definito il migliore mai avuto. Insomma, nessun rimpianto per Francesco Monte, anzi.